Il precedente record di kill di ninja è stato battuto, se non sbaglio era di 32 kill ma uno youtuber, un pro player di Fortnite chiamato Tizqui Hanno tutti i nomi strani pro player di Fortnite, il primo al mondo si chiama TFUE Comunque lasciamo stare, questo Tizqui ha fatto il record di 45 kill e non era nemmeno nelle solo, perché era nelle solo versus squad Cioè praticamente lui combatteva da solo contro le squadre Come cavolo ha fatto? Ovviamente il video è reale, si vede totalmente tutto il suo gameplay e quello che andrò a fare in questo video è tagliarlo tutto nei momenti in cui fa ogni kill Per farvi vedere al dettaglio con un montaggio che faccio io ogni kill che fa Come le fa, perché le fa, mi raccomando un bel like se volete altri video simili inoltre Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e soprattutto attivate la campanellina scrivendo qua sotto nei commenti hashtag campanellina E anche una proposta per qualche nuovo video di Fortnite E niente, passiamo al montaggio Ah il è là? Ma uai, il était là en faite Oh C'est quoi ce poop ? Oh ma... Vas-y, c'est quoi ce poop ? Oh, c'est quoi ? Ok, allez ! Ok, allez, non c'est rien » Ilն ben enchanté, je ne sais pas quoi ! Mais le dernier, il ne y a rien, ja Sì Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti